Ehi ragazzi, ciao a tutti ieri che bentornati qua su Red Hat Redemption 2 Ragazzi riprendiamo Abbiamo sconfitto i nemici in questo accampamento E ora credo che dobbiamo tornarcene A casa, non lo so, o forse dobbiamo ancora scoprire qualcosa Ok, che cos'è che devo fare? Io continuo a frugare Io continuo a frugare La roba buona mi interessa La baracca a sinistra Devo esplorare qua dentro Devo andare qua Presumo Prendi, che devo prendere Un sigaro E ogni tanto un tiro ce lo fanno Sigaro, medicina Oh, eccola qua la dinamite Mangialo E che la devo trasportare io? Oh, l'abbiamo in da no ho trovato questo su di uno di loro grazie questo è perfetto oh sì, interessante questo è qualcosa del treno che erano a robarmi un Mr. Leviticus Cornwall portatevi al centro vabbiamo continuando ok ok, vieni fuori orgogli di voi tutti voi non un uomo buon lavoro Che cosa faccio? Che cosa faccio? a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Ha ha. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Hey, you see that fellow? Was I at camp with Combe? Okay. Leave him to me. All right. We're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay. You got it. Okay, you got it. You got it. Driscoll and take it. Driscoll and take it all. Okay. Viene premuto. Ruota delle armi. Sì, c'è solo un piccolo problema. Devo attraversare. Okay. Allora. Do cacchio è? Ah, eccolo qua. L'azzo. What the hell did I do? Tieni, premi. Per lanciare. Debbie, io compà. Oh no, you don't. Okay, preci. Premi. Pelle e card. Perfetto. Okay. Viene qua, compà. Okay. Carico. Cavallo. Just let me go. Okay. Che devo fare mo? Ma sai che non è questo. Okay. Va bene. Cavalca. Che devo fare? Oh, stai calmo. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna lie. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna lie. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please. Mazzò, questo è come a Trevor, eh? Ci siamo? Guarda dove ti ho portato. In un posto tanto, tanto bello. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Leghe il cavallo. Come? Okay. Avvicini di prima. Abbiamo sodizio. Okay. Allora. Signori, guardate che vi ho portato di bello un ospite. Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle. Mr. Williamson. Tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting. Save fellas as need saving. And feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it. I know Driscoll in my camp. I ain't a no Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on coal. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. A posto. Bisogna capire se riusciamo ad assaltare sto benedetto treno. Oh, finalmente la notte è andata. Si vede un po' qualcosa. La tempesta si è calmata. Missione completata, amici di lunga data. Mo' che vuole sto tizio che si avvicina a me? Niente. Ehm, okay. Allora, è rimasta la P. Andiamo a vedere sto Peterson, come si chiamava, che cosa voleva. Andiamo, cammina. Forza. Chi è questo Peterson? We're gonna starve to death, Mr. Morgan. Parla. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We'll survive. We always have. We always have. And if needs be, we can eat you. You're the fettest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they've found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted salted awful. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come on. Ok. Se va a caccia. Mi sa con l'arco, però, eh. Perché ho visto che quel tizio era equipaggiato di arco. Ed è fatti. C'è topia. Eh. Take this. I can't use it. You'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. And we'll scare off every animal from miles around. You're never too old to learn. I imagine. Che direi che oggi come oggi vanno tutti a caccia con il fucile. Vabbè, raga, seguiamo Charles. E andiamo a vedere dov'è che si può cacciare un po' qualcosa da mangiare. Ok, raga, ci avviciniamo alla zona di caccia. Vediamo se troviamo qualche coniglietto, una lepre, qualcosa di simile, un cervo. Insomma, oggi lezione di caccia, come se va a caccia. Lui ha visto qualcosa, io non ho visto niente. Ok, hai ragione. Allora, non si sa mai. Sì, ho capito, un attimo. Oh. Ok. Vai strada. Sì. Concentrati, tieni premuto L3, R3. Vigo. Segui le tracce R1. Smetti di seguire le tracce. No, no. Eh, insomma, non è che è proprio facile. Si vedono a malapena, mo, eh. Però sì, si nota. Sì. È che gli devo tirare da qua sotto? Ma sì, è pazzo. E come caccia faccio? È lontanissimo. Non ci sto a capire niente. Non so che lo... L'ho preso! Quale altro? Oh, ne vedo altri. Eh, mi ha fatto tranne feccia da 50 metri. Dice, mira la testa. Ma manco si vedeva la testa, tanto era lontano. Beh, per ora io vado a pigliare questo cervo, no? Alla fine siamo venuti qua per lui. Che cacchio fai? Ok, mi ha dato la freccia. È il cervo come lo squarto? Non so sa. Che cosa dovrei fare, mo? Occhi di falco qua. Eh... Ah, di là. Ok. Bu, raga. Non ho la più palida idea. Quell'animale però lo lasciamo là. Forse torniamo a prenderlo dopo. Ok, eccoli, eccoli, eccoli. Eh, devo prendere loro, non c'è dubbio. Ma li vedo a malapena. Quello è girato. No, 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 no. Mi guarda, mi guarda. No, state fermo. Che studio gli animali? A malapena lo vedo. L'ho preso. Come non l'ho ucciso? Ma come non l'ho ucciso? Prima che ho tirato a caso è morto. Ah, ma sicuramente fa parte della missione. Sicuramente non moriva a prescindere. Eh, già. Poverino, guarda come soffre. No, non si preoccupare. No, ti salvo io. Ecco, guarda. No, no, no. Ecco. Fatto. L'abbiamo salvato. Ecco, ecco, ecco. Oh, vieni qua. L'ho chiamato il mio cavallo in modo cacchio. Il tuo cavallo risponde ai chiami finché sei abbastanza vicino, immagino. Eccomi qua. Dov'è il mio? Eccolo qua, guardate. Il mio ha capito tutto. È già arrivato. Eccolo qua, eh. Mi raccomando. Non parlare troppo col tuo amico. Ok, raga. Si torna a casa. Oggi si mangia. Ok, raga. Siamo tornati finalmente. Con i due cervi che intanto stanno a diventare bianchi con la neve. La situazione pare tranquilla ogni volta che torniamo indietro mi piglio un colpo. Ho paura che succeda una cosa di brutta. Ecco fatto. Avanti, oh. Prima un tizio, mon cervo. Tra poco un alieno, pio. Ok, andiamo dal macellaio, raga. E stasera si mangia buono. Ok, ci sto provando. Ecco qua. Ecco qua. ...ma un'altra forma di mostrare una fissione. No, non è. Ora, chiamate, si è perdita. Siamo a te, gents, dopo. Voi, ti è stato fatto bene. Charles'è un piacere. Buongiorno, ragazzi. Tu ti ha avuto. Jesus, cosa è questo? Una rinforzata, signor. È la sola cosa. La sola cosa! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Si, sembra di fare un piacere a te. Si, devi restare la mano, Charles. I'll be fine in qualche giornata. Scusate di aiutare con la schiena, signor Morgan? È più facile se lo facciamo insieme. Non riesco a schiena a te. Ah, ha, ha, ha! Sei sempre uno con i ragazzi, non ti? Ah, ha, ha! Questo davvero non è un lavoro per un uomo con una mano bruciata. Ci vediamo dopo. Tu schiena l'altro. E ti schiena l'altro. E ti schiena l'altro. Scuola! Ma non mi devi fare fare queste cose a me! Ah, ha, ha, ha! Non voglio guardare! Ah, ha, ha, ha! Ammazza, ho già fatto! È eccociato! È eccociato, signor Morgan. Ah, sì. Sì, diciamo che ci fossi un tigio. Tu sai, devi tracare o tu, vendere o tu in quasi ogni area. Se volete rilasciare un po' di l'argento, ovviamente. Ora, ora mi chiede rilasciare questa nuova. Ah, se tu guardi qualcosa di più, tu lo porti a me. Va bene Cacchio stasera si mangia bene Alcuni giorni dopo Hai sbloccato le sfide da maestro della caccia Che cosa è successo alcuni giorni dopo Dutch being Dutch He is busy making plans Dutch being Dutch Those plans involve robbery And dreams Chi diavolo è Leviticus Sì C'era sempre un uggio, Dutch. C'era un scratch. No, lie still, son. Little Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill. Now, you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Jose. We're living. Look at me. That ought to be. We're living. Even you. But we need money. Everything we have is in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just... I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly, we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him? Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Ok, abbiamo un treno, raga, da rapinare. Incredibile. Ok, ragazzi, però, cavolo, il tempo vola e devo fermarmi per ora qua. Quindi rapineremo questo treno nel prossimo gameplay, ragazzi. Spero tanto che questo gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. Ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!